4 persone sono state ferite in modo grave in uno scontro frontale avvenuto nella mattinata di giovedì sulla strada statale 280 Catanzaro-Lamezia, nei pressi dello svincolo per San Rottino. Due le autovetture coinvolte, sono 6 in tutto le persone ferite, di cui 4 in condizioni gravi, soccorse da un elicottero. L'incidente è avvenuto nella zona della strada interessata dal restringimento della carreggiata per il lavoro in corso. Tre persone incastrate tra le lamiere sono state estratte dai vigili del fuoco giunti dalla sede centrale. Sul posto, oltre all'elisoccorso, anche tre ambulanze.